Questa è la testa del mio, è il culo di quello di Lara. Il mio c'ha la raucedine, fa sapere che quello davanti gli puzza il sedere e la si lamenta. Ho sicuramente nel suo tempo per leia. Oh no, non? Non c'è la testa del mio, grazie a te. I non c'è la testa del mio, grazie a te. Sì, aspetta.